eccoci qui ragazzi siamo appena rientrati in albergo siamo tornati praticamente a pedibus calcantibus quindi immaginate quanta strada abbiamo fatto e perché era troppo intasato tutto quindi chiamare un taxi veramente sarebbe arrivato dopo domani detto questo voglio essere voglio cercare di essere più lucida possibile perché ho letto di tutto di più e anche oltre del tutto di più allora primo tempo inter che il primo quarto d'ora non mi era tanto piaciuta devo essere sincera poi ha preso le redini del gioco e non l'ha più mollato nel senso quella diciamo chiamiamolo così quell'infortunio di Hans Sommer purtroppo è pesato sul gruppone perché quello è stato un regalo sacrosanto fatto al Genoa ma ci sta cioè sbagliano tutti può sbagliare anche il portiere dopodiché l'Inter comunque ha cercato di macinare gioco ma con Genoa chiuso dietro non era sempre semplice Genoa Genoa che chiuso dietro cercava di ripartire in contropiede e a volte c'è riuscito anche ma senza concretizzare poi onestamente possesso palla soltanto dell'Inter Inter che ovviamente anche un po' lenta e macchinosa per la questione della preparazione ragazzi è chiaro che siamo un po' indietro con la forma fisica e questo è un dato di fatto ma un Inter che non ha assolutamente giocato male un Inter che non ha assolutamente negato un bel gioco ai tifosi che sono andati a vederla a Genoa Inter che è stata praticamente nella metà campo della squadra avversaria per tutta la partita per tutta la partita poi c'è stato allo scadere praticamente del secondo tempo quel quell'episodio su Jan Bissek che devo ancora vedere quindi raga perché là dal settore ospiti a Genoa non è che si vede chissà che cosa quindi quindi devo ancora valutare per il resto ho letto di gente che sta criticando già in zaghi alla prima giornata perché ha fatto giocare Bissek quando per tutte le settimane precedenti ho letto nei miei post soltanto deve giocare lui titolare deve giocare Jan Bissek titolare stasera sto leggendo il contrario spero che non siate gli stessi che abbiano detto che Bissek avrebbe dovuto giocare titolare perché sennò veramente grave questa cosa detto questo Jan Bissek è stato uno dei migliori in campo per tutta la partita ha fatto una cappellata e devo vedere ancora le dinamiche ha fatto una cappellata e sta è massacrato praticamente da alcuni tifosi a mio avviso Bissek è stato da sette questa sera in pagella e non c'è neanche da discutere se non avesse fatto il se non ci fosse stato l'episodio da rigore per il Genova a quest'ora parleremmo di un altro di un altro Bissek di un altro Simone Inzaghi di un'altra Inter perché la cosa che più mi dispiace è che molti vanno dietro al risultato perché se il risultato fosse rimasto sul 2 a 1 come sarebbe stato giusto vista la partita forse nessuno avrebbe smosso questo errore di Simone Inzaghi nel far giocare Jan Bissek titolare per me assolutamente sul pezzo assolutamente in partita assolutamente in partita per buoni 90 minuti nel finale era un po' stanco forse probabilmente sarebbe potuto uscire lui ma Simone Inzaghi ha optato per altri cambi visto che comunque ha cercato in tutti i modi di portarla a casa e ce l'ha anche riuscito perché i cambi non mi sono dispiaciuti ho sentito massacrare Cristiano Aslani ho letto anzi ho letto purtroppo massacrare Cristiano Aslani sto ragazzo che cosa ha mai fatto di così deleterio per poter essere insultato in questo modo ho sentito disfattismi ho visto anche pagine e titoli di pagine che si decantano interiste parlare in un modo disastroso quando l'Inter questa sera ha fatto nonostante la sua difficoltà fisica perché mi rendo conto che l'Inter è un po' dietro fisicamente Lautaro Martinez stesso per quanto il nostro capitano abbia provato a battagliare per quanto si sia impegnato però è chiaro che ragazzi è arrivato da poco non è in condizioni non avrebbe potuto giocare nessun altro al suo posto sicuramente vedete che Inzaghi comunque Yoki in Correa non lo tiene neanche in considerazione e probabilmente lo dovrà tenere in considerazione nelle partite successive io mi auguro di no mi auguro che non ce ne sia bisogno però ha cercato di comunque giocare con le tre punte davanti mettendo Medita Remy detto questo ho visto anche alcune pagine di altre tifoserie che in realtà non sono né il Milan né la Juventus ma di altre tifoserie che dovrebbero stare un po' zitte è vitale di parlare perché anche questa sera c'è stato da dire sulla Marotta League ci risiamo siamo alle solite fanno schifo e su cosa dovreste parlare questa sera perché Simone Inzaghi è andato a parlare col quarto uomo l'ho fatto con la faccia contro la fa ma quando mai? ma quando mai? che cosa avrebbe dovuto fare il quarto uomo? buttare fuori Simone Inzaghi? per un sacrosanto una sacrosanta richiesta di Simone Inzaghi? fatemi capire e poi cosa vi sarebbe cambiato ragazzi? l'Inter avrebbe perso la partita rovinosamente se Simone Inzaghi fosse stato buttato fuori? dico un po' di cervello fatelo ragionare non iniziate già con la faziosità già da ora perché sennò veramente diventa quasi smielato e imbarazzante cercate di vincere sul campo spero che la vostra squadra possa iniziare a vincere sul campo anziché stare sempre lì a dire le solite cazzate cazzate sì cazzate non voglio usare utilizzare un altro non voglio utilizzare un eufemismo non voglio utilizzare un altro termine cazzate anche perché chi ha visto la partita ha visto insomma come sono stati amministrati i cartellini gialli qualcosa la potrei anche dire ma non la dico perché non mi interessa perché l'Inter per due errori per due errori perde due punti sicuramente che ad oggi contano poco ad oggi veramente contano poco l'Inter ha dimostrato di essere ancora la più forte ha dimostrato che purtroppo riesce a fare il bello e il cattivo tempo perché nel caso in cui l'Inter faccia solo il bel tempo non ce n'è non ce n'è e anche questa sera nonostante non sia vi ripeto fisicamente al top ha dimostrato insomma di dominare la partita dal primo all'ultimo minuto purtroppo sono stati errori individuali che ci sono costati carissimi questo non vuol dire pensare un disastro colossale questo non vuol dire l'apocalypse now questo non vuol dire assolutamente fare disfattismi e soprattutto signori miei sentire e leggere certe persone dire a Miam Bissek non avrebbe dovuto giocare titolare dopo che vi ho letto per settimane e vi ho vi ho letti scrivere vi ho letto che mentre scrivevate Miam Bissek deve giocare titolare è giusto così perché in questo momento è lui quello più in forma e oggi il contrario mi viene l'orticaria già la prima giornata pensate di essere dei fenomeni indiscussi che non si può mai perdere una partita o pareggiarla e ragazzi allora scendete un attimino sulla terra perché siamo una squadra fortissima perché non bisogna fare disfattismi qualora si perdono dei punti soprattutto alle prime giornate e basta sempre Forza Inter sono qui a sostenerla la sosterrò sempre soprattutto quando veramente non c'è nulla da fare catastrofi di nessun genere e di nessun tipo sempre verso l'obiettivo ragazzi quello è sostenere l'Inter e incitarla sempre e spero che mi seguiate in questo vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra Luque lo vuole bene sempre 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 Forza Inter non sono una giornalista sono un'appassionata e si vede pure e per chi mi ha detto tifoso interista che porto sfighe e devo stare a casa ti ho bloccato non mi puoi vedere più queste cose non si dicono neanche per scherzare non sono una giornalista sono un'appassionata e si vede pure contate fino a 10 contate fino a 10 contate fino a 10 a 10